Cosa spinge un uomo ad affrontare un lungo viaggio in terre lontane, esplorare, conoscersi, ricercare l'ignoto. Cosa spinge un uomo ad affrontare un lungo viaggio in terre lontane, esplorare, conoscersi, ricercare l'ignoto. Cosa spinge un uomo ad affrontare Il confronto è uno scambio tra popoli. Le diversità culturali sono l'unica ricchezza che fa grande l'intera umanità. Il rispetto è la chiave che apre le porte del cuore. Cosa spinge un uomo ad affrontare